Cioè l'idea che nel ventunesimo secolo la cristianità in generale sia esattamente quello che è, cioè questa venerazione per un divino, può essere messa in discussione, cioè dici ok c'è la scienza, ti rendi conto che forse l'idea di Dio è un po' diversa da quella che effettivamente ci siamo sempre immaginati, ma non possiamo per questo togliere importanza all'idea di divinità, cioè noi siamo, la nostra razza probabilmente si è evoluta proprio grazie a una cosa del genere, cioè pensiamo a quanti scritti, la Gerusalemme liberata di Tasso non è che è stata scritta a caso, è stata scritta perché c'erano delle guerre in corso, c'era una venerazione per il divino che diventava un giustificativo della loro vita, no? Cioè è imprescindibile se tu ci pensi, la divina commedia non nasce a caso, nasce perché ci sono dei presupposti simbolici che ti permettono poi di produrre qualcosa, se tu rompi tutta quella simbologia e lasci il nulla, poi le persone sono disorientate, no? no?